Tutti gli altri candidati dei partiti, tre partiti minori a cui noi vogliamo dare la parola e devo dire la verità che è un po' univoca la loro risposta sul gas. L'unica soluzione possibile è tornare a prendere il gas da Gazprom, c'è poco da fare. Il racconto di tutto ciò che è andare a prendersi in due anni quello che servirà all'Italia quando ce l'abbiamo pronto dai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 spiega che c'è un'arrampicata sugli specchi delle forze di governo. Torniamo ad avere un rapporto sereno con la Russia, torniamo ad avere il gas da Gazprom a 2, non paghiamolo a 200 agli americani che ci lo mandano liquido nelle navi cisterna. Torniamo ad avere bollette normali a poter fare il pieno di benzina senza doverci svenare ogni volta.